Vrestal Mania è a quattro settimane di distanza e pian piano i brividi sulla pelle aumentano, c'è ancora qualcosa, qualche ingrediente che manca ma sono certo che la WWE li metterà nel piatto quanto prima. Intanto questa è la card teorica dello show degli show, la grande notte doppia 1 e 2 aprile, sabato più domenica che qui su questo canale vivremo in live reaction. I match non sono ufficiali, quelli scritti diciamo a penna, ma potrebbero diventarlo. Alcuni potrebbero avere anche delle variazioni, ad esempio Günther contro Drew McIntyre, Giu Giu là sotto triste in stile Calimero potrebbe vedere l'addizione di Shimus e diventare una faccenda a tre. Anche Lita e Becky Lynch contro Ronda, Rousey e Shana Buzzler potrebbe diventare un match minestrone con l'aggiunta delle damage control, magari con Bayley che prende il posto di Dakota Kai. O magari Bayley potrebbe affrontare Trish Stratus in una storta di nuovo contro usato garantito. Vi piace questa card? Quali sono i punti deboli e quali sono i punti di forza? Voglio leggere in chat cosa ne pensate, profilo le opinioni che mi sembrano quelle un po' più presentabili. Potrebbe esserci anche Liv Morgan con Raquel Rodriguez nel match a squadre, è vero, e mi spiacerebbe non vederle coinvolte. Soprattutto Liv Morgan ha vissuto un anno molto bello e probabilmente la convocazione la merita. Hai ragione. Bray Wyatt contro Bobby Lashley, punto debole? Accidenti, non sei l'unico a pensarlo. Lita? Eh beh, Lita impedita, fa anche rima, sembra una delle vecchie figurine degli Scorpions. Chi è che se le ricorda? Siamo anziani noi che compravamo gli Scorpions. Però Lita ha cercato un match, forse. Non è stata così top come al solito, ma in precedenza, quando è rientrata, ha fatto bene. E non dimentichiamoci che è un'allenatrice del Performance Center. Quindi le mettiamo un timbro addosso, negativo, dopo un passo falso, così immediatamente. Siamo così feroci, siamo così aggressivi. Io vi inviterei un po' alla calma, che dite? Ray contro Dominic. Luca, a te non piace? A te non piace? Io invece questo match lo voglio vedere. Allenava il Performance Center, Carlo? Non allena più, che tu sappia? Io ero rimasto che allenava. Non lo fa più? Informami, informami. Allora, punto di forza, ogni match ha il suo interesse. Difficile che un match della card sia snobbato dal pubblico, indubbiamente. Credo che anche HOMOS contro Brock Lesnar, che è già in grafica e che molti criticano e criticheranno, comunque possa regalare un Vrestal Mania Moment, in generale, e magari non essere così indigesto. Chiaro, non sarà Dan and Mike Kidd contro Tiger Mask, però, però, vedere un colosso di due metri e venti sollevato e schiantato col Tornado Forza 5 non è da tutti i giorni, anche se noi speravamo, almeno parlo in plurale, consociativo, cercando, credo, stile Goku, di convogliare su di me le vostre opinioni, almeno quelle della maggioranza, tutti noi speravamo, in un Brock Lesnar contro Bobby Lashley, duello finale. Allora, Mr. Sancho, secondo mese di abbonamento, apri le danze, thank you! Grazie mille, grazie mille per la fiducia, e grazie anche a tutti coloro che stanno entrando così, a caso, richiamati da questa grafica un po' arlecchina, a dare un'occhiata a cosa si dice nel mondo del wrestling. Se siete qui richiamati dalla home page, lasciate un follow, se vi va di seguire il canale abbiamo una programmazione molto, molto intensa e profonda, sommergibile direi, questa è quella della settimana, siamo già arrivati a mercoledì, ma come vedete anche giovedì e venerdì vi faremo compagnia, e poi chissà, magari sabato e domenica, visto che siamo home page e ci inventiamo qualcosa, perché no? Perché no? E poi in arrivo il nuovo videogioco, WB2K23, quanto manca? Manca due settimane circa? E quindi a breve avremo di che divertirci anche in maniera videoludica più profonda. Quindi se siete qua richiamati dalla home page, e vi può interessare WB principalmente, visto che noi trattiamo di quello, non seguirci è penale! E' penale! Oh bella Carlo, mi son perso che Lita ha smesso di allenare nel performance center, pensavo che fosse ancora presente, spesso girano delle foto che la ritraggono comunque dietro le quinte, magari va semplicemente a trovare i suoi amici, io pensavo che fosse ancora lì, c'è sempre da imparare. Adesso comunque vado a cercare se trovo delle novità, delle novità su Lita. Ma ritengo che si sia quantomeno preparata per fare questo benedetto match, o che intenda mettersi in forma, per arrivare comunque al top of WrestleMania, che dite? Non sottovaluterà l'impegno, soprattutto ora che l'hanno messa in una situazione di alto profilo. Allora, Lita al primo match avreste almeno a 47 anni, Paolo Cerbai? Sai che non ci ho fatto caso? E' una statistica nuova, ed è bello di avere una community frenetica, laboriosa, come Formiche, che va a tirare fuori dal cilindro anche queste cose qua. Voi, chat, confermate, voi che siete stampella della mia vecchiaia, confermate che Lita non ha mai disputato un match vero a Vrestalmania, a parte un coinvolgimento in una sfida squadra, e probabilmente con gli Hardy Boys, i Dudley Boys e compagnia cantante? Ma pensa te, ma pensa te. Qua mi dicono che ha lottato a Vrestalmania a 18, eh ragazzi? Voi ve ne approfittate, perché sapete che quello che ha la memoria buona è il Godzilla Luca Franchini, lui queste cose, pum pum pum, subito. Io invece sono vecchio, seguivo anche il Giappone, le federazioni minori, e alla fine queste cose mi escono dalla testa. ha combattuto in un match a tre con Jets, Trish Stratus e poi lei. Triple Trette per il titolo femminile da WWE. Ai 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 ai, vedete a volte è facile prendere dei piccoli granchi. Ok, Lita lo fa nell'ambiente indipendente, si allena in giro per il mondo, come ha fatto Sasha Banks. È interessante, è interessante. e unisce questa propensione un po' zingara allo stare in forma. Tra l'altro Lita, anni fa, non so se ve l'ho raccontato, venne in Italia a suonare. Non so se lo sapete, ma aveva un gruppo musicale, sono usciti anche dei cd, almeno uno lo hanno fatto. E non so come mai, venne ingaggiata per una serie di date in Italia, ma non le pubblicizzarono un granchè per niente. Uno dei concerti fu a Lucca, città che noi conosciamo bene, noi nerd, per la grande fiera del fumetto, del gioco, dell'animazione, Lucca Comics and Games, e un mio amico, qua, della zona in cui abito, scoperta la news, prese l'auto e andò a sentirli. Quante persone c'erano nel locale ad ascoltare Lita? Cioè che sapevano che era lei? Dieci. Dieci persone. Poi il locale ne aveva altre di più, il locale era pieno come al solito, ma espressamente richiamati lì a vedere Lita, perché era Lita, erano in dieci. Tant'è che il mio amico, a concerto finito, si intrattenne con lei, al tavolo, con gli altri musicisti, a parlare, a discutere, con gli altri fan, a fare serata, perché non c'era la ressa cumulativa di una massa di persone che voleva un pezzo della celebrità. Quindi pensate un po' che storia che mi racconta questo ragazzo che ogni tanto mi accompagna all'Ishow WB, perché sapete che io non guido, si chiama Simon, e mi dice, io ho fatto serata con Lita. Una sera ho fatto 600 chilometri, 600 no, ma 500 probabilmente sì, e mi sono fatto il concerto con Lita, e poi ho fatto serata con lei, al tavolo, a bere, a mangiare, a parlare, per come potevo con l'inglese, e a raccontarcela. Allora, quale sarà il match a sorpresa della card, amici? Giochiamo a questo giochino. Quale sarà l'incontro che ci stupirà più di tutti? Quello che ci farà saltare dalla sedia o dal divano dicendo, oh bella, non me l'aspettavo, oppure, oh accipicchia, pensavo fosse un nove e invece è diventato un dieci. Gunter contro Drew, vediamo, Paul contro Rollins, Rhea contro Asuka, vedo che vi state già dividendo parecchio, eh, almeno in chi ha risposto rapidamente, facendo correre le dita sull'avantreno del cellulare o della tastiera. Charlotte contro Rhea Ripley, John Cena contro Austin Theory, attenzione, e questo è un long shot, perché John Cena abbiamo visto di recente che rischia il meno possibile nel ring. Quindi, quindi non lo so, eh, perché, insomma, per disputare un match intenso dovrà mettersi in gioco. Eh, Omos contro Brock Lesnar. Quelli confermati sono quelli in grafica, Fabio. Tutti gli altri sono rumoreggiati, ma molto probabilmente eh, sono ragionevoli. Con qualche possibile distonanza, intanto Davide 19, 927, ho sgammato che hai scritto per la prima volta in chat, benvenuto e grazie per aver rotto il ghiaccio. Eh, Rollins è forse quello che più di tutti può far risaltare Logan Paul? Indubbiamente Rollins è una macchina da guerra. Non sappiamo, oltre a questi, quali altri match ci saranno? Io penso che magari faranno qualcosa per i tanti team che hanno lì parcheggiati, parlo team maschili, e e basta. Gira voce che Triple E ci non voglia appesantire troppo le due serate, magari per dedicare il giusto tempo alle battaglie che ha già in cassaforte. E la trovo anche una scelta saggia se questa sarà quella presa. Cioè, è inutile fare due serate da cinque ore o da quattro ore e mezza o da quattro ore stanche. Eh, uno dovrebbe aver voglia, una volta finita Vrestalmania, day one, perlomeno di dire, oh, non vedo l'ora di vedere il day two. Non sono ancora pieno, non sono ancora sazi. E, se guardiamo qua, non è che mi sembra che manchino dei big, non mi sembra che ci siano fuori dei big. E certo, non è collocato Damien Priest del, del judgment day, combattono tutti tranne lui in questo prospetto, in questo cartellino. Eh, non ci sono le squadre, tanti tech team, non c'è Liv Morgan che però potrebbe rientrare insieme a Raquel Rodriguez, insieme a Belia, le damage control, nella sfida con Lita e Becky, se non loro potrebbero fare un altro incontro femminile per ripescare le deluse che resterebbero fuori. Perché così la card avrebbe tre match femminili per ora e potrebbe esserci in un quarto. Non c'è Scimus, Nikoan, perché è rumoreggiato come possibile aggiunta a Gunter contro Drew McIntyre. Chiaramente, se non venisse addizionato lì, anche lui si troverebbe alla finestra. Però potrebbero inventarsi o una Battle Royale in stile Andre the Giant, Battle Royale alla memoria di Andre the Giant e buttare dentro tutti oppure fare un match come sappiamo alla viva il parroco con le altre squadre e quindi, non so, l'Alpha Academy se esiste ancora, gli Heathrow e compagnia cantante tutti dentro e almeno hanno staccato il biglietto. Ma sarebbe un match da Brest-Almenia? Francamente no. Francamente no e se nella filosofia di Triple A c'è quella di evitare i match non da Brest-Almenia a me sta bene. Mi spiace per quei professionisti lì perché non avranno il bonus a meno che non saranno in una Battle Royale magari nel kick-off nel pre-show quindi mi spiace perché professionalmente non sei in campo in uno stadio pieno come un uovo al di là anche dell'aspetto economico e però ragazzi è così. Randy Orton è infortunato per chi chiede Matt Riddle è ancora fermo a causa di quella che è sembrata una sospensione per violazione dell'enorme antidroga della compagnia. Intanto Simon Direff 25 mesi di abbonamento thank you grazie mille ragazzi se vi avanza un abbonamento Amazon Prime e non volete che io dimagrisca se volete permettermi di mangiare bistecchi ogni sera ogni tanto qualche biz o un abbonamento buttatelo nel secchio e nel caso vi ringrazio per il sostegno a me e agli aziendalisti perché come sapete questo canale è gestito collettivamente. Allora Gunther leggevo su internet che ha una grande peculiarità praticamente da quando è stato firmato dalla WB è molto di più il tempo che ha avuto la cintura una cintura rispetto a quanto non ce l'abbia avuta. È un personaggio che stando a molti analisti a tanti osservatori leggevo di recente un articolo dedicato a lui di Jim Cornette sapete che io sono abbonato alle poche riviste cartacee ancora esistenti e Jim Cornette diceva di Gunther è il prototipo perfetto di Wrestler perché è duro è intenso ha quell'immagine di realismo che manca a tanti ne abbiamo parlato in una live recente quel realismo che hanno Bobby Lashley e Brock Lesnar che purtroppo non ha HOMOS l'abbiamo detto che ha perso troppo quindi porta con sé un'immagine importante ma sa adattarsi sia agli incontri con i pesi leggeri come Re Misterio e sia i match contro i grossi quali ancora più grossi di lui come Braun Strowman quindi ha speso delle parole al miele Jim Cornette per Gunther e in generale credo che lo stiano in qualche modo covando pensando per lui a un domani bello tosto quindi in generale la sconfitta di Gunther quando arriverà ho l'impressione che debba fare rumore come non dico quella di Roman Reigns perché non può essere così ma deve fare rumore perché battere Gunther è diventato difficile quasi quanto sconfiggere Roman Reigns almeno in singolo probabilmente il dimagrimento l'avere un po' migliorato il suo aspetto fisico il lavoro grande che ha fatto dietro le quinte di nascosto ha permesso a questo atleta europeo di essere perfetto come scrive Shinobu per il ruolo che deve portare nel ring e poi a questo alone che come diceva Enzo Amore you can't teach that non lo puoi insegnare ti esce spontaneo è un x-factor ben poco allenabile certo migliori l'estetica ma il resto viene da sé quindi io gli lascerei la cintura mi spiace per Drew McIntyre e soprattutto per Shimus se dovesse essere coinvolto perché Shimus non vince qualcosa di incredibilmente prestigioso o non è al top del top del top da tanto tempo però in realtà vedo che c'è un grande lavoro un grande investimento su Gunter e adesso vi voglio fare una provocazione intanto fatemi ringraziare più TV Web che ha regalato 200 bits thank you grazie mille grazie davvero io vi ricordo che ci sono anche i titoli del canale in paglio ora non li vedete perché c'è una grafica a mega schermo ma più tardi compariranno eh ve li faccio uscire qua nella grafica che ci accompagnerà dopo abbiamo chi ha regalato più abbonamenti nella settimana chi ha regalato più bits e l'ultimo abbonato prima che la live si chiuda ogni giorno cambiano l'ultimo che è il campione 24 7 gli altri due settimanalmente quindi se regalate degli abbonamenti o se regalate bits concorrete ogni week per diventare capi saldi a schermo di quello che proponiamo detto questo attenzione provocazione i due campioni secondari Austin Theory e Günther tutti si stanno togliendo il cappello e tutti è improprio la maggioranza dicendo che il futuro è di Austin Theory ma immaginiamoli come due cavalli siamo sicuri che nel testa a testa Austin Theory arriverà al traguardo prima di Günther ora al traguardo di un titolo mondiale intendo possono raggiungerci ambe due non vuol dire che uno esclude l'altro ma siamo sicuri che in realtà quello veramente che stanno preparando non sia Günther o che non abbia già qualche incollatura di vantaggio e questa cosa a me fa pensare perché il match di cartello a WrestleMania se questo viene confermato ce l'ha Austin Theory però i record l'immagine il personaggio gli alleati ma tutto questo ce l'ha Günther non lo so non lo so voglio profilare un po' le vostre opinioni cioè non sto dicendo che Austin Theory è scarso non bisogna puntarci e bla 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 sto dicendo che al momento c'è una grande fanfara su Austin Theory che schiaccia quella di Günther quando in realtà il ring le storie i record dovrebbero dirci un pochino il contrario cioè che Günther è più avanti nelle gerarchie di Austin Theory malgrado abbia questo match con John Cena che arriva forse con sei mesi di ritardo Günther con Paul Heyman ragazzo mio se succede potrebbe fare sfraceli se dovessero vedere in Günther un personaggio in stile Brock Lesnar certo Austin Theory ha un'età più verde è normale lo abbiamo detto ma non vuol dire che se sei più giovani devono portarti in processione come il santo patrono anzi essere più giovani vuol dire anche avere qualche tacca di esperienza in meno Günther ha schiacciato un intero roster e l'imperium è davvero forte quindi la pensate un po' come me o poi magari vincerà Austin Theory per primo un titolo mondiale e noi rimarremo qua a dire eravamo quattro amici al bar e hanno esagerato col tavernello e con gli amari però in generale questa Verstelmenia non è che svilisce Günther però il match di cartello tra i due ce l'ha chiaramente Austin Theory che per me arriva da un'annata peggiore rispetto a quella del generale del ring ma a questa ferita verbale aperta con John Cena ormai da tanto e di conseguenza bisogna arrivare ad una cucitura e metterci la parola fine io credo che lì abbiano perso un treno importante con John Cena e Theory però attenzione perché John è un perfetto capo stazione e nella prossima puntata di Raw quando sarà presente potrebbe rimettere in movimento il convoglio dunque stiamo a vedere una cosa ho notato girando per i forum poi passiamo al domande e risposte più canonico veramente pochissimo interesse ma ditemi voi se mi sbaglio perché siamo in tanti stasera siete anche un termometro ragionevole pochissimo interesse per Asuka contro Bianca Belair e ancora meno per Finn Balor contro Edge Edge è passato dall'essere il protagonista di un ritorno pazzesco eccezionale ad avere ambizioni titolate a disputare anche dei bei match non da solo una volta ma comunque in generale dei bei match con Roman Reigns da quello alla palude del Judgment Day che non riesce a scrollarsi di dosso in nessun modo non lo so non lo so magari è una percezione che ho avuto io perché sto riferendo a quello che trago leggendo in giro anche su YouTube chi viene a commentare i contenuti che propongo ma questi due match Asuka e Bianca Belair che viene proposto in stile giapponese vediamo chi è la più forte con Asuka che torna dal nulla e ha ritrovato la verve e la scintilla e Finn Balor contro Edge sono quelli che degli incontri che abbiamo visto su questo cartellino che sembrano tutti probabili con qualche magari aggiunta sono quelli che mi sembrano un po' più sottovalutati sono quelli che mi sembrano un po' più emarginati avete presente quello che non balla in fondo alla sala di solito ero io quello che guarda l'orologio dice boh che palle io volevo andare a vedere a sentire musica dal vivo invece sono qua nello schiamazzo e non riesco a parlare però ho questa sensazione voi che dite voi che dite vi interessa Finn Balor contro Edge vi sentite attratti dalla storia io credo che già Finn Balor contro Edge e Styles che era la capitolo di chiusura teorico di un'altra rivalità del Judgment Day non abbia bucato lo schermo e la sensazione che qui si possano ripetere anche se il valore di chi scende in campo è assolutamente indiscutibile eh è assolutamente indiscutibile beh questa sera la live come vedete mi aiutate anche voi a farla resta al mania è l'uno e il due di aprile per chi chiede in chat la si potrà vedere sul WWE Network perché ora è americana quindi è notte in Italia sono le due di notte in entrambi i casi noi facciamo la live reaction qua eh noi la proponiamo per entrambe le giornate quindi se vi va la potrete vivere insieme a noi non vedendo le immagini perché non è legale e mi bloccherebbero il canale oltre a mettere in pericolo il mio ruolo di telecronista da WWE eh però se vi va ci sarà un salotto collettivo allargato col bardo gli aziendalisti a fare camiara e a commentare tutti insieme quello che accade oh c'è anche carry on cross mi fate notare in chat che non è collocato non c'è carry on cross accidenti ecco la vera mancanza non me ne ero accorto tic toc avanti emoticon del tic toc in chat eh via manca carry on mazzari altresì detto carry on cross ha già il match con parrucco uno dei nostri aziendalisti suo mortale nemico va bene va bene va bene allora questa è la card di Vrestalmania al di là di tutto match interessanti e soprattutto match che puntano tanto sull'incertezza del risultato io trovo che non tutte le storie siano uscite col buco ma credo che mai come quest'anno i risultati finali siano in bilico ora Usos contro Samuel Owens se c'è credo che Zane otterrà il risarcimento per non aver vinto in Canada cioè avrà il momento di trionfo il bagno di folla il pubblico che si esalta lui e Owens che si guardano e piangono e si abbracciano magari Samy Zane sfida gli uso da soli e durante il match arriva Kevin Owens convinto a dargli una mano perché c'è anche solo Sicoa che lo pesta ma quanto sarebbe bello e drammatico che il cuore di pietra di Kevin Owens vedendo l'eroico Samy Zane da solo contro tre si scioglie e dice non posso abbandonarlo in fondo le sta prendendo perché ha tradito la bloodline per colpa mia o per causa mia mi sta dando prova di essere un vero uomo e allora scendo in campo con lui e poi lo sguardo gli occhi gonfi lucidi in stile manga cartone animato o a v l'abbraccio e la riconciliazione uniti si vince da uno si diventa in due e da due si diventa in tre più siamo meglio è ma quella è un'altra cosa e via è il pubblico che canta esplode devono farmi sceneggiatore e invece sono qua a fare l'usciere e il ballerino detto questo ragazzi eh v'ho dipinto uno scenario capolavoro capolavoro vince chiama triple ace eh ho bisogno di comprarmi villa con piscina vabbè vabbè sarebbe bello non trovate eh non trovate non lo so come scrivere il finale di Roman Reigns è chiaro che se vuoi tenere aperta la porta di una rivincita eh Cody deve vincere sul filo di lana Ref Bump Roman magari ce l'aveva fatta prima però non ci dovrei pensare tanto qua eh Greg Valentine non è una risposta che riesco a darti a schiaffo dipende come vuoi far vincere Cody lo vuoi lo vuoi far vincere come l'uomo che si prende pienamente il testimone se vince lui stiamo parlando di what if o lo vuoi far vincere come Face che realizza il sogno del padre ma è comunque in pericolo perché ha vinto ma per poco e dipende da questo cioè dipende da questo il finale cioè cosa vuoi far passare oltre a Cody che raggiunge un sogno un desiderio legato alla famiglia legato all'onorare l'American Dream da Steroz da lì scrivi il finale quindi se WB vuole far vincere Cody che Cody Rhodes vuole presentarci secondo voi se dovesse vincere Cody come ce lo presenteranno un campione imbattibile uno che ha vinto superando un un'enormità con 20.000 interferenze ma la voglia di portare la leggenda del padre sulle sue spalle l'ha fatto andare oltre un Cody che prima avrebbe perso ma non c'era l'arbitro e poi ce l'ha fatto e quindi Roman può recriminare è difficile questa domanda a volte le più complicate sono anche quelle che sembrano le più semplici tanto vedo che c'è interesse anche per gli incontri verso i quali in tanti stanno un po' non dico storcendo il naso ma voltando la faccia da un'altra parte non solo per questo ho letto anche opinioni carine su Omos e Brock Lesnar ovviamente mitigate anche da chi dice è una schifezza buttiamo via tutto l'acqua sporca non ce la vogliamo bere beh ma Corey Graves fa parte del programma io no ed è complicato fare parte del programma è molto più complicato eh allora allora ragazzuoli che altro mi volete dire su Vrestalmania avete qualcosa da dire eh a un mese dallo show un mese che passa veloce settimane che se ne vanno come petali di una margherita che noi sfogliamo in qualità di rosario eh contando le ore che ci separano dal massimo godimento e quell'attesa diventa già parte dello spettacolo questa non ve l'aspettavate allora se mi state seguendo così a tratti dalla home page signori non state lì a lurcare su non siate timidi lasciate un follow su un follow è gratis su 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 eh guarda qua che programma che abbiamo mh questa è la nostra settimana ormai siamo a metà domani è il giovedì che sta proprio sempre nel mezzo no come dicevano nei film di Lino Banfi stai sempre nel mezzo De Simone come il giovedì eh e poi anche il venerdì e da qua sino a Vrestalmania ci saranno sempre le live reaction di Raw e di SmackDown in più stiamo giocando col WWE 2K22 che sta per andare in pensione perché a breve arriverà il 23 e ovviamente ce ne impadroniremo con le nostre mani paciocose quanto prima e vi proporremo eh giocate su giocate per scoprire tutte le funzioni e tutte le novità dunque lasciate un follow seguite e non fate i barboni associate il vostro abbonamento Amazon Prime se ce l'avete a questo canale eh che io lo so che andate a metterlo a quelli che ne hanno 5, 6, 8, 10 mila e qua facciamo fatica a chiudere il mese perché ne abbiamo poche centinaia anzi in realtà ne abbiamo 200 quando va bene eh ma proprio quando va bene quindi eh fate vivere anche questi piccoli canalini molto settoriali se vi fa piacere ovviamente eh vedo che capite capite questi alti riferimenti eh culturali siete persone dell'alta borghesia c'è anche qualche grande nome in chat non vorrei dirvelo eh c'è anche qualche grande nome in chat va bene va bene va bene di cosa volevo parlarvi ah ecco qua anche di questa roba qua prima di andare in live Sonia Deville arrestata per possesso d'armi eh in realtà prima che la cosa diventi incontrollabile sarà meglio mettere i puntini sulle possesso di una pistola che le hanno trovato in New Jersey e lei non aveva il permesso per detenerla in quello stato credo che ce l'avesse in Florida da quello che ho letto ma non in New Jersey l'arresto è del 19 febbraio quindi non è freschissimo arriva a noi con due settimane di ritardo da quanto sono riuscito a capire leggendo in giro eh dovrebbe cavarsela con una multa un richiamo insomma la pistola ce l'aveva per chi se lo stesse domandando non perché è una top gun o voleva andare a fare Rambo ma perché anni fa Sonia Deville ha avuto a che vedere con uno stalker molto pericoloso che voleva rapirla e violentarla uno stalker che praticamente le è anche entrato in casa e WWE la estromise dai suoi show per un po' e la fece tornare con un cuscinetto di morbidezza eh dunque non la fece combattere le diede un ruolo eh chiamiamolo backstage un ruolo dirigenziale fittizio però nel frattempo aveva la possibilità e ha avuto la possibilità di rimettere insieme i tasselli della sua vita dopo quel grande spavento altro rumor che sta girando è Cameron Grimes che è sempre lì fermo nel limbo alcuni siti dicono che potrebbe debuttare a breve poi ci sono un sacco di simpaticissimi clickbait che fanno anche abbastanza ridere perché ogni giorno credetemi ogni santo giorno io qua non ve li faccio neanche vedere da tanto mi fanno schifo intanto mettiamo la grafica quella giusta della nostra serata anche se la serata è già iniziata alla grandissima cioè ogni giorno buttano fuori che Vince McMahon sta segretamente dirigendo il comparto creativo della David W ogni santo giorno salvo poi quattro ore dopo fanno uscire un articolo di semi smentita o di riassunto tal dettaglio ha detto che c'è Vince e d'altronde Omos contro Brock Lesnar l'ha scritto sicuramente Vince o magari è così però ci giocano in questo modo qua e poi ma non ci sono conferme ma tizio Caio Sempronio hanno smentito Melzer dice qualcosa nel suo radio show che coinvolge Vince bam fuori smentita favoloso favoloso questi si arricchiscono questi fanno un sacco di soldi giocando sulle vostre reazioni di pancia basta i soldi li devo fare io e non loro al di là delle stupidaggini innanzitutto Greg Valentine grazie per i due abbonamenti regalati alla community thank you grazie davvero tanto al sostegno che tu e tutti gli abbonati ognuno per come può state dando al canale ma dicevo togliamo le battute le cose economiche eccetera diffondiamo il bello del guardare la disciplina questo pessimismo iniettato a prescindere fa veramente cagare è brutto non aiuta ti fa vivere peggio ti fa vivere peggio questo match non ti piace ne hai altri bellissimi guarda qua che roba e quello lì lo skipperai andrai a farti popcorn andrai al bagno andrai ad accarezzare il gatto darai un bacio alla fidanzata o al fidanzato ti gratterai un po' il flick flock il trallallà non lo so uscirai a prendere una boccata d'aria stapperai una bibita poi magari sarà anche divertente però questa roba del creiamo il mostro avanti tutti spalate le tame e sfogatevi e che diamine mi hanno preso per mucche e vi stanno mungendo ercuaro ben arrivato primo messaggio hai seguito anche il canale thank you grazie mille allora allora stasera siamo in tanti 200 circa siamo tantissimi e dai domande e risposte anche se lo stiamo già facendo lo stiamo già facendo ben ben bigolo ragazzo era una forza della natura io l'ho seguito anche in Giappone Carlo quando lottava sia in singolo che in coppia con Big Van Vader non vorrei dire fesserie ma in Giappone è stato campione tech team con Vader dovrei andare a guardare forse è stato campione di WGP proprio con Vader in Giappone ben ben bigolo un grandissimo big man ben bigolo in Italia noi da bambini lo prendevamo un po' in giro buonariamente perché il il cognome no in Italia suona male infatti guarda tech team con Big Van Vader ricordavo di aver visto i suoi match in quella categoria però cacchio agile veloce potente la sua sfortuna di ben ben bigolo che volevano lanciare in WWE ci sono stati degli eventi dove ha fatto un figurone mi ricordo aiutatemi voi con la memoria un survivor series mi pare dove Hogan viene eliminato e rimane per ultimo ben ben bigolo a difendere i colori della squadra di Hulk e alla fine erano in tre contro di lui e arriva ben ben bigolo in finale cioè perde ma ne elimina due quindi avevano una mezza idea di di lanciarlo ma forse forse politiche del backstage forse anche dubbi sui suoi comportamenti o le sue abitudini non lo aiutarono un granché erano le survivor series dell'87 Carlo grazie mille era venuto anche a Milano con Bret Hart me lo ricordo bene Greg Valentine io non riuscì a vedere quel match vinse Bret Hart con un victory roll che fu la stessa mossa che poi utilizzò per vincere il king of the ring in un'edizione del tour credo che fosse quella a cui si lega anche una leggenda metropolitana Bret Hart aveva un chiodo bellissimo erano gli anni in cui io avevo i capelli lunghi ero giovane scorazzavo con la mia red rose che era una moto dell'apriglia dell'epoca e indossavo i chiodi i chiodi i giubbetti di pelle tutti borchiati un po' metallari e Bret Hart ne aveva uno strepitoso quando batte ben ben bigolo c'è un'invasione di campo i tifosi si buttano dentro almeno credo che fosse proprio quel match lì e non quello dell'anno successivo con Owen Hart anche perché c'era pochissima gente con Owen era la decadenza stavamo trapassando tramontando come entusiasmo nazionale e giravoce non l'ho mai verificata che qualcuno fregò il giubbotto di Bret Hart che un inserviente non aveva provvidenzialmente e tempestivamente portato nel backstage mentre in America quando arriva qualcuno con un indumento che si toglie subito va nel backstage lì non si sa perché rimase il chiodo a bordo ring e si dice che un fan se lo imboscò un gratta gratta si portò a casa si portò a casa il giubbotto di Bret Hart potrebbe essere una fantasia potrebbe non essere mai successo ma allora girava questa voce ben ben bigolo davvero grande atleta tra l'altro protagonista credo di almeno due grandi salvataggi di persone in pericolo in uno sono abbastanza sicuro entrò in una in un'abitazione che andava a fuoco per portare in salvo chi era rimasto dentro e l'altro non me lo ricordo bene anche qua come vedete la libreria del wrestling qui dietro però è stato protagonista di uno sbarra due atti di eroismo civile non indifferenti lui che aveva il fuoco tatuato anche su sulla testa so che magari per molti di voi ben bigolo suona come ostrogoto quindi vorrei farvelo vedere eccolo qua ben bigolo con costume fiammeggiante e tatuaggi un po' ovunque soprattutto anche qua vedete sulla testa questa è una versione più moderna del suo abito da ring a me non piaceva tantissimo con le fiamme attorno qui aveva già un'età un pochino più avanzata big man che eseguiva il moonsault ma più frequentemente il fly nabat dal paletto e insomma vedete che è un tizio bello grosso che arriva addosso con il fly nabat con la testata volante così per chi è più giovane abbiamo un attimo anche profilato chi era ben ben bigolo ce ne erano tanti di atleti molto preparati in quegli anni che erano per certi versi aiutati non dallo stress dei viaggi che era molto più intenso rispetto ad oggi ma dal ritmo che essendo più basso più statico riuscivano quando acceleravano a dare l'impressione di forza oggi lo dico un po' a malincuore lo stile che va per la maggiore è sempre a mille all'ora non ovunque ma è quello che richiama la reazione immediata del fan lo stile di nxt per intenderci o di all elite credo o di new japan e se da un certo punto di vista è bello vedere match così e ha i suoi estimatori dall'altro essendo le marce basse diventate immediatamente quelle alte in realtà la possibilità di sorprendere i tifosi si è dimezzata perché ormai uno si aspetta già i cento metri forsennati polmoni in gola sin da quando suona il gong quindi non voglio un ritorno a quel wrestling che potrebbe risultare soporifero anche perché la tv ha bisogno di ritmi differenti però atleti come ben ben bigolo polondorf rody piper anche a ben vedere cortenig teddy biase sono stati facilitati dal fatto che si lottasse con uno stile sicuramente molto più risparmioso rispetto a quello di oggi e i cambi di ritmo si vedevano davvero oggi quel piccolo fondamentale è andato quasi sparendo perché in una determinata tipologia di battaglia sei già al tuo massimale quasi sin da quando suona il ring eh allora The Wrestler è un capolavoro un capolavoro io lo dico spesso è una delle domande che mi fanno più frequentemente coloro che non seguono il wrestling e mi dicono ma sto film com'è ma è vero io dico ragazzi io ho avuto modo di bazzicare l'ambiente delle federazioni anche un po' spinte nel momento di sua massima espansione moderna quindi legata alla tv ai social e a internet quello che mostra The Wrestler film con Mickey Rourke legato proprio alla disciplina quindi il wrestling delle federazioni minori violente è non dico l'acqua di rose ma è ancora poco rispetto a quanto altri hanno fatto per davvero di fronte ai fan io lo trovo un ottimo film dedicato al wrestling chiaramente ma utilizza la disciplina in realtà come massima espressione artistica per farti vedere il dramma di qualcuno che ha recitato un altro ruolo per l'intera sua vita e non riesce ad uscire da quel ruolo un ruolo recitato proprio a fini artistici e il wrestler diventa l'uomo sul palco diventa il solista tra tutti gli artisti perché deve metterci un impegno fisico un impegno mentale un impegno scenografico ed è buona la prima e deve raccontare diventa uno strumento in mano alla sua arte non diventa lui che fa arte è l'arte che usa lui non so se riesco a spiegarmi bene ma quindi potrebbe essere un cantante potrebbe essere un attore potrebbe essere un performer potrebbe essere un pittore potrebbe essere un qualsiasi tipo di artista che trascende se stesso nel momento in cui crea la sua arte ma hanno scelto il wrestler il lotatore perché probabilmente era il personaggio migliore per quella storia e è proprio questo il dramma che ci mostra il dramma di un qualcuno che non riesce a rinunciare al suo alter ego alla sua parte al suo lato artistico perché il suo lato artistico è più vero o lui lo ritiene più vero di quello che lui è in realtà e se fallisce nella vita di tutti i giorni con la figlia con gli amici con tutto il resto il richiamo del pubblico è quello che gli permette di andare avanti è l'affetto che maggiormente vuole a discapito anche degli affetti veri reali concreti delle persone che conosce per nome ma gli va a preferire il coro che arriva da chi non sa chi siano ma che gli dà quella voglia di buttarsi ancora nella mischia anche se il cuore sembra dire no fermati a me piacque molto come film tutto il sottotesto è scritto divinamente c'è molto di più dietro a quello che propone e ha trattato anche in maniera rispettosa la disciplina il finale lascia intendere intanto grazie per aver scritto per la prima volta lascia intendere che tuffandosi dal paletto lui muoia cioè il finale è tragico teoricamente ed è giusto così perché il protagonista è una persona che ha perso il contatto con la realtà ed è talmente totale nell'essere artista che accetta sa anche di morire mentre viene usato e usa mettiamo un cordone umbilicale doppio la sua arte o dalla sua arte è la miglior morte possibile per lui è l'immortalità teorica che durerà un battito di ciglia perché passa il tempo e dopo 10 20 30 anni ci si dimenticherà di lui come ci si dimentica oggi delle star degli anni 60 e 70 ma è il finale che vorrebbe probabilmente per la sua esistenza e in effetti ricorda un po' Rocky Joe anche se il finale di Rocky Joe è ancora più amaro in generale più amaro e più malinconico io credo che muoia alla fine cioè il finale lascia intendere che il protagonista non ce la fa dovrebbe fermarsi la ragione gli ha detto di smettere lui si butta sentiamo i battiti del cuore poi non li sentiamo più io mi ricordo questo ma voi aiutatemi se l'avete visto con più di recente datemi una mano a me ha sempre lasciato l'impressione che si butta con la sua super mossa finale dal paletto ed è l'ultimo capitolo della sua vita tentando di vincere il match perde la sua esistenza confermando però la vocazione che non è riuscito a tacitare io sono il wrestler non sono l'uomo dietro la maschera io sono l'artista e lo sono fino in fondo anche se questo mi autodistruggerà intanto cortezo 85 secondo mese di abbonamento thank you e danny nigri quindicesimo mese di abbonamento thank you grazie mille amici potrebbe partire live train manca un minuto se vi avanza un abbonamento amazon prime o qualche beats è il momento di spingerli nel serbatoio per farmi fare anche bella figura gli aziendalisti fanno 20.000 stazioni dell'hyptrain 20.000 no ne fanno magari due o tre ogni tanto io neanche una e che mi prendete a pesce in faccia io che rispondo a tutte le vostre domande su facciamolo partire il treno e che diamine comunque bello bello come match come match come show mi piacque e quando mi fanno questa domanda più delle volte c'è anche il frank il frank ha pure commentato dal vivo in italia alcuni match hardcore ai tempi venne la czw eccetera eccetera parlò con sabu nel backstage ha vissuto delle esperienze che io non ho fatto il godzilla e vi può confermare che dietro nel backstage era l'anarchia più totale era veramente l'anarchia più totale intanto mi volete male io ve lo dico il treno non è partito bu 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 lasciate perdere è uno scherzo grazie invece che sostenete il canale e lo tenete attivo e voi voi che state lurcando così perché siamo in home page lasciate un follow se potete se vi va se vi fa piacere qui si parla di wrestling e questo è il nostro programma settimanale che magari sarà arricchito da qualche accensione che non è preventivata una vita da fallito e gli rimane soltanto quello gli rimane soltanto l'unica cosa che lo fa sentire vivo uno dei film più belli sul wrestling ma attenzione paradossalmente non è un film sul wrestling il wrestling diventa il veicolo per mostrare il dramma vissuto da tanti nelle discipline connesse allo spettacolo poteva essere un cantante famoso che aveva gente ai concerti e poi si trova a suonare di fronte a 50 persone in un locale scalcagnato può essere un attore e c'è stato un film analogo credo con un finale più agrodolce che era The Artist che ha vinto anche il premio Oscar credo come miglior film anche lì c'era un artista del muto che deve fare i conti con il sonoro poi viene declinato in un altro modo il film però il punto di partenza è un artista che vuole continuare a farlo perché è quello che rinuncia a tutto ma subentra qualcosa che mette in pericolo ciò che per lui è la sua vera identità ciò che per lui è il suo vero io ciò che è la sua missione di vita ciò che è più importante quasi di se stesso quindi ce ne sono stati altri su quel filone questo usa il wrestling ed è una grande scelta usare il wrestling è anche un attestato che il wrestler può rappresentare insieme ad altri la forma più alta di arte di spettacolo quindi mi piacque molto non ho recuperato la serie Hills ragazzi mi spiace quale film biografico sul wrestling ti piacerebbe vedere Vince McMahon su Vince McMahon mi piacerebbe vederlo un film biografico gli scandali la creazione di Wrestlemania la creazione dei grandi eventi le sue idee rivoluzionarie e anche i suoi grandi fallimenti perché ne ha collezionati parecchi quindi un film biografico diciamo non di denuncia ma studiato bene su Vince McMahon lo guarderei bene cioè lo guarderei volentieri è chiaramente un desiderio che resterà in espresso forse e che non si concretizzerà mai però il primo nome così che mi viene è Vince McMahon che ha fallito con la Lega di Football che ha fallito come ci ricorda Carlo con la World Bodybuilding Federation che ha fallito anche con altre cose a inizio carriera quando il padre lo dislocò nel main a fare il promoter anche lì non è che ha raccolto grandi risultati però ha fatto esperienza ha fatto esperienza e in America c'è questa filosofia che a me piace molto in Italia siamo latini non è propriamente così che non importa hai fallito metti via si riparte in Italia ti puntano ti additano non puoi sbagliare nemmeno una volta se sbagli una volta hai addosso il peso il macigno sulla schiena in America puoi sbagliare puoi fallire e si ricomincia e in tanti hanno fallito tante tante volte un numero esorbitante e poi si sono rialzati e hanno fatto altro ecco questa è una delle poche cose in generale che invidio l'America al di là che l'ho sempre vista come il mondo dei marziani visto che l'ho sempre intesa così già che quando ero bambino andare in America era alla portata di pochi solo quelli ricchi benestanti potevano andare in America oggi prendi vai dici vado a New York sette giorni metto via qualche spicciolo e vedo com'è la grande mela però questa cosa qua mi è sempre piaciuta non sei tu non sei il tuo fallimento tu rimani tu ci hai provato quel fallimento rimane distaccato da te è capitato è andato così però in generale Vince McMahon è il primo nome che mi viene in mente sarà che sugli altri ad esempio su Bret Hart c'è stato un documento un documentario Wrestling with Shadows certo ci sono anche qua dei momenti magari di pathos no di polemica lui che va alla WCW lo school job e via dicendo il grande lancio gli inizi nella federazione del padre potrebbe uscire un bellissimo film sulla vita di Bret Hart però in generale a questo punto se posso selezionare io io scelgo diciamo non il top di gamma ma l'uomo che nasconde più segreti l'uomo che effettivamente si è messo l'industria se l'è messa in testa quella che conosciamo oggi e l'ha generata lui e ancora oggi WWE ve ne parlerò nel numero uno di Wrestling Review se volete acquistarlo ancora oggi WWE fa le cose che nel 1983 ha ideato Vince ha capito Vince se non era l'83 era l'85 ok però fa quelle cose lì declinate ovviamente nei tempi moderni eh il Montreal Screwjob non era un work assolutamente Ugo credo proprio sarebbe il work più protetto della storia della disciplina allora visto che ho parlato di Wrestling Review permettetemi di aprire una piccola parentesi eccolo qua non so se già l'avete acquistato o se vi può interessare è il primo tentativo di una libro rivista su live wrestling io l'ho pubblicato in self publishing su Amazon il link passa in chat regolarmente lo potete cliccare c'è sia in ebook che con copertina flessibile sto lavorando al numero uno questo era un numero zero per capire se potesse piacervi ogni copia venduta mi aiuta ad andare avanti con l'iniziativa siamo più o meno a metà di quello che mi servirebbe per proseguirla ma per dare continuità alla cosa almeno un paio di numeri a prescindere li faccio il numero uno questo era un numero zero sta prendendo forma lo pubblicherò credo attorno al 20 di marzo le recensioni sono positive ce ne sono 20 tutte verificate 4 o 5 stelle abbiamo una media di 4,7 ora non voglio mettervi le mani in tasca troppo se vi piace leggere se volete dei contenuti più approfonditi rispetto a quelli che trovate sul web dategli benzina anche perché il numero uno che arriva secondo me rispetto a questo avrà addirittura 5 marce in più però questo mi aiuta ad andare avanti o magari potete dire aspetto che c'è il numero uno e me li prendo tutte e due assieme ma ragionateci su se volete che questa roba rimanga viva se non lo volete io mi rimetto chiaramente alle leggi di mercato ma almeno non avrò dentro di me il rimorso o il rimpianto di non averci provato allora la cosa bella del wrestling vicennino 3 vedo che è scritto per la prima volta è che si può riniziare quando si ha voglia il wrestling vive di emozioni istantanee non lo guardi da 8 anni non ci saranno più alcuni atleti che ti erano cari perché o si sono ritirati tipo l'undertaker o stanno facendo film come john cena che però di tanto in tanto rientra no però chi se ne frega dagli una chance siamo in onda su dimax al lunedì e al martedì sera quindi anche stasera verso le 23 e 15 no oggi è mercoledì quindi no riavvolgo lunedì e martedì alle 23 e 15 e in replica al sabato e la domenica mattina prova a guardare magari ti piace ancora magari è un modo per ritrovare delle vecchie emozioni eh quando divideranno i titoli dov'è 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 mamma mia quanto sto scrivendo oggi eh eh non la trovo comunque eh Marco Pic grazie per aver scritto per la prima volta in chat eccoti qua eh i titoli finché ce li ha Roma Reigns non li dividono non li dividono se li perde contro magari Cody Rhodes può darsi che Cody uno lo liberi dicendo io non ci sto io volevo vincere ho vinto ce l'ho fatta ma non sarò un campione ingordo e paralizzante come Roma Reigns quindi io sono di Raw mi tengo quello di Raw quello di SmackDown fate un torneo riassegnatelo come volete e si inventano un modo per per differenziarli affinché Roma ne è campione dovrebbe perdere un match secco nel quale è in paglio solo una delle due cinture non è facile anche perché non le difende con una grande frequenza eh quindi oppure Cody se le tiene entrambe le fonde come suggerisce Carlo e poi propongono una nuova cintura come già successo in passato nel roster che rimane sguarnito e senza campione ma l'odio verso Bray Wyatt ovviamente vedo che tu hai usato le virgolette in generale può anche essere necessità o desiderio di una proposta narrativa più facile da capire anch'io alcuni dettagli non li avevo compresi l'altra sera ero in live su youtube con Seven Fiend che invece segue tutto che è uno degli aziendalisti dello staff che mi dà una mano che segue tutto con minuzia di particolari e mi ha fatto notare delle cose che cavolo per come me le raccontava lui erano fantastiche filavano tutte e però ti ci devi mettere cioè mentre le altre sono cacchio mi hai rubato la donna cavolo voglio la tua cintura sono forte te meno oppure hai picchiato mia moglie adesso mi vendico la proposta di Bray Wyatt è molto più complessa è come un libro giallo dove gli indizi però non ce li hai sotto al naso devi cercarli tu con la lente di ingrandimento cioè diventi tu l'investigatore e può darsi che questa roba qua non ti appassioni o che tu voglia una velocità di racconto differente che non è la sua che ora sta lottando contro se stesso e forse ci sono più di un Bray Wyatt addirittura e quindi ti trovi magari un pochino spiazzato perché è una novità clamorosa nessuno ha mai fatto una cosa del genere e potrebbe anche scricchiolare o cadere la sua narrativa è facile deragliarla devi pensarla bene io trovo che adesso sono ancora un po' indeciso dico la verità però sino dal suo debutto a parte la sera del debutto ve l'ho già detto vi ho spiegato perché ma da lì in poi compreso l'inizio quindi il White Rabbit e tutto quanto sino al match contro Ellen Knight ma ragazzi premio Oscar 10 in pagella ma con 50 più cioè 10 tendente all'11 fuori scala ora anch'io malgrado le spiegazioni di Seven Fin voglio vedere che succede sono ancora un po' disorientato ma aspetto un secondo vediamo verifichiamo ecco chi magari è insofferente a Bray Wyatt non ha questa pazienza o non si mette in gioco dicendo aspetto devo già dare una valutazione o non è il mio pane non è la mia marmellata a me piacciono i lamponi e questo mi offre l'albicocca e allora che palle quando ne arriva una e bla bla ma Bray Wyatt fortunatamente stavolta non ha questa fretta quella fretta lì che qualcuno vorrebbe sarebbe il boomerang è peggiore per quello che sta facendo dunque anch'io condivido l'ho detto anche a Seven Fin il nostro amico aziendalista che credo sia in chat condivido qualche perplessità però dopo che lui mi ha spiegato un po' di cose recuperatela su YouTube quel live lì l'ultima che abbiamo fatto ieri è molto illuminante perché spiega benissimo molte cose su Bray Wyatt e quindi magari può come ha fatto con me accendervi il filtro che ancora non si era azionato e dopo aver sentito un po' come lui me l'ha raccontato e ho detto aspetta un attimo cacchio c'ha ragione e guarda quante cose non avevo notato la scatola Cariglion di Alexa Bliss questo quell'altro che non possono essere lì a caso perché c'è proprio una cura nei dettagli che è maniacale e che non tutti guardano perché richiede tanta attenzione tanta attenzione primo messaggio anche per Matti Mazza ben arrivato nel nostro spazio Cody hanno avuto fretta a lanciarlo e se n'era andato da Midcarder e se n'è andato da Midcarder ed è tornato da un uomo che rappresentava altrove la filosofia anti WWE più spinta tanto da organizzare insieme a amici e conoscenti un grande evento di wrestling indie da cui è nata la All Elite Wrestling ora io la dico sempre questa massima perché mi è rimasta impressa dalle letture che ho fatto ciclo bretone quindi re Artù cavalieri bellissimo la fantasia epica cavalleresca strepitosa mago merlino che dice il dramma degli uomini è che essi dimenticano mago merlino rappresenta le antiche divinità pagane che andranno a tramontare col cristianesimo ma anche la saggezza no ora questo dramma degli uomini che dimenticano dimenticano la storia con la S maiuscola ma anche la loro storia le loro storie con la S in caratteri più ridotti in realtà diventa per WWE e per chi fa spettacolo similare alla WWE un punto di forza Cody Rhodes arriva era un midcarder non importa arriva nel contesto giusto breast almenia sfida un super big come Seth Rollins che non sa fingere non sapere chi sarà il suo avversario e Cody Rhodes vince Rollins protesta dice che partiva in svantaggio perché non aveva tutte le carte sul tavolo si fa la rivincita e vince ancora Cody Cody si infortuna fanno la terza ed è infortunato in maniera eroica contravvenendo anche al buonsenso Cody vince basta è nato un eroe è nato un eroe a WWE non interessa se cinque anni prima Cody perdeva contro Rhino e apriva l'iscio e faceva il buffone il marziano che veniva dalla luna non gliene frega niente adesso è così punto e il fan l'ha dimenticato il fan è contento è contento perché o ha seguito la sua parabola in giro per il mondo e quindi dice ha fatto i sacrifici ha creato cose eccetera eccetera ma in generale e i numeri di WWE di fa con quell'altra tipologia di sostenitori gli altri o non guardavano quando Cody era Stardust oppure a questo spettatore non ne frega niente oh è tornato è forte guarda che risultati che ho ottenuto divertiamoci il wrestling in America parlando con gente anche negli States quando ci sono andati ci sono andato per buona parte dell'utenza noi li chiamiamo i cosiddetti casual poi non c'è un identikit del casual ma per l'americano che il wrestling se l'è trovato in casa cioè che esce e può guardarsi la WWE la All Elite e in passato le varie federazioni territoriali diventa andare agli show di wrestling diventa una delle due cose o uno sfogo o una serata tra amici per cazzeggiare uno sfogo perché sono arrabbiato e quindi magari sono anche Mark e ci credo e quindi dagli al cattivo e gliene dico quattro o dai andiamo a cazzeggiare con gli amici ci beviamo qualcosa vediamo lo show di wrestling e poi andiamo a far serata o andiamo a dormire cioè questa liturgia assurda del era un jobber perdeva qualcuno scrive anche del McIntyre lo era e perdeva quel torito cioè ce l'abbiamo noi che stiamo lì a cercare le cose ma non essendo l'ambiente da WWE o in generale americano a motrice sportiva come l'è come lo è la New Japan Pro Wrestling o lo era la All Japan o la Noah al fan natio del wrestling americano mainstream non gliene frega niente ho visto un bel match questo è arrivato cacchio guarda come è diventato forte basta non gli interessa cinque anni fa faceva il tizio lunatico che veniva dalla luna non si fanno queste idee ce le facciamo noi su internet perché ci piace discutere anche di queste cose qua ma non è una cosa che persiste nella memoria di chi fa numero come spettatore il dramma degli uomini è che essi dimenticano per WWE diventa paradossalmente una bella inversione a U qualcosa di positivo dimenticate perché volete sfogarvi quindi ditegliene quattro al Corbin di turno o al Dominic oppure perché volete divertirvi e allora dai su cantate insieme a Sami Zayn vivete la sua quest la sua eroica battaglia per sconfiggere il drago invincibile è tutto qua poi è chiaro magari sei come Chris Sayan che si ricorda sempre di tutto ma la domanda è quanto questo ricordo ti impedisce di divertirti quanto questo ricordo ti impedisce di sfogarti quanto questo ricordo ti impedisce di partecipare ognuno ha la sua risposta tenete presente però che è la filosofia della proposta da WWE che tu dimentichi che tu viva il momento perché ogni prossima Wrestlemania è la più grande di tutti i tempi anche se non sarà così ma sarà stupendous e grandiosa il più grande show di tutti i tempi come l'album dei cantanti sempre l'ultimo è il migliore che hanno fatto è quello della maturità artistica è quello della svolta però il wrestling vive di questa dimenticanza almeno in WWE devi avere questa dimenticanza devi saper scordare se vuoi credo godertela il più possibile se no tutti sono stati jobber l'undertaker è stato jobber prima di arrivare in WWE diceva ma io l'ho visto che era già forte vai a vedere quando le prendeva dal bruser brady che gli dava tre sberle e lui non riusciva a fare niente anche lui allora tu l'hai visto perché magari guardavi le federazioni minori immaginiamoci immaginiamoci che potessi vedere i territori minori ti vedi l'undertaker in WWE che dice ma quello è Mark Calloway è scarso tutti hanno un percorso che a un certo punto spostandosi muovendosi cambia li muta li modifica il personaggio li modifica come percezione li modifica come proposta va bene va bene quest'anno non hanno dato uno slogan navrestelmania a parte il fatto che vanno all'esangeles non c'è lo stupendus che ci ha accompagnato l'anno scorso vi manca lo stupendus intanto antonio jn 94 100 bit ma grazie con il quadrifoglio fortunato cos'è quella roba lì del quadrifoglio ma è bellissimo thank you grazie mille ma che bello è il quadrifoglio la prima volta che mi compare è fantastico ma insomma è la vita è la vita è la vita tutti perdono tutti giobbano eh tutti hanno perso nessuno è arrivato già fatto è finito tranne Goldberg e pochi altri eh Goldberg che arriva spiera tutti Jack Hammer e vinco io e voi giù a nanna allora chiaramente il passaggio del wrestling in uno dei primi canali del telecomando gli darebbe grande visibilità però è chiaro che non essendo una disciplina nata in Italia e che potrebbe sottrarre spettatori ad altre verrà sempre vista con quel pregiudizio del eh ma tu sei scemo ci credi davvero perché in Italia è sempre stato così cioè quando il wrestling è diventato popolare i media hanno fatto tra virgolette una guerra alla disciplina dicendo è finta quando in realtà è predeterminata ma dicendo è finta cosa lo guardate a fare come se quando guardi un film dici beh ma che lo guardi a fare è finto stanno recitando mica c'è la guerra cioè non sono nel terzo ride che rischiano la vita eh però per il wrestling non sono riusciti a o non hanno voluto diciamo che non hanno voluto distinguere la cosa no quindi era facile anche qua mungere l'opinione generale dicendo beh è una simulazione pericolosa dal punto di vista pedagogico perché i bambini imitano da quella visione hanno ragione i bambini imitano uno mi dirà ma ci siamo picchiati tutti da da ragazzini è vero ma qui ti danno delle brutte idee è inutile nasconderci in America ci sono state delle tragedie ragazzini che hanno ucciso le sorelline perché gli hanno fatto il pall driver o la power bomb e non se ne rendevano conto perché vedevano quello in tv che si rialzava e dicevano ma qua si rialzano anche lì figurati cioè prendo mia sorella di quattro anni le faccio una power bomb si rialzerà anche lei certo non c'erano i genitori a fare da schermo a fare da tramite a spiegare e ahimè nella gioventù di oggi spesso le famiglie non hanno questi ruoli i miei genitori l'hanno fatto per certi versi ma oggi tra chi mette al mondo figli insomma un po' alla leggera e chi invece lo fa con grande voglia passione vuole fare anche l'educatore ma poi c'ha il lavoro c'ha i conti la fine mese le bollette magari lavorano entrambi i genitori è un attimo quindi che ci sia un'attenzione sul wrestling sul non imitare e anche qualche scetticismo di un canale importante a trasmetterlo io lo devo capire anche se io lo vorrei un canale importante che aumentasse la visione e la piacevolezza nel vederlo per me poi diventerebbe anche un'opportunità lavorativa ma fingiamo che non faccia non facessi il telecronista e fossi un fan chi non lo vorrebbe cioè fingiamo che non avessi un guadagno o che non ci fosse un conflitto di interessi però devono anche pensare queste emittenti a queste cose qua a ritorno d'immagine e soprattutto agli sponsor gli sponsor poi verranno da me perché si deve ripagare l'investimento e l'investimento lo ripaga lo sponsor lo sponsor che arriva richiamato dagli ascolti e che si allontana richiamato dalle polemiche quindi è un equilibrio molto difficile da tracciare io me ne accorgo anche nel mondo degli influencer gli sponsor non vengono da me a parte qualcuno legato e poi non mi fanno neanche dei contratti economici cioè mi danno dei prodotti che sanno che a me piacciono e quindi li mostro quindi diciamo che c'è uno scambio merce ma ogni volta che c'è io ve l'ho sottolineato non ve li ho nascosti cioè magic mi manda le carte e sanno che gioco lo sanno che io adoro quel gioco che ci gioco da una vita mi mandano qualche carta e io ve la faccio vedere vi dico guardate me la mandano non vi danno soldi e io ve la mostro c'è questo scambio se vi va di giocare magari ci incontriamo vi insegno e l'ho fatto anche a diverse fiere di recente due due marchi mi hanno chiesto di fare sponsor su questo canale ma gli ho detto di no e so sono fesso chiunque li avrebbe accettati ma io non li uso e mi trovo a disagio a dirvi di usare qualcosa che io non uso per prendere cento euro se li avessi usati ci avrei pensato ma non li uso perché devo fingere che gli usi che mi piacciono non sono io fanculo cercherò di vendervi tre libri miei in più nel caso però è lo stesso meccanismo degli influencer no? cioè le grandi aziende vanno da chi ha i numeri grossi poi se salta fuori uno scandalo improvvisamente si discostano quanti influencer hanno avuto uno scandalo e le aziende li hanno abbandonati? tantissimi alcuni che magari bestemmiavano indicavano la donna come mero oggetto sessuale o che hanno avuto indagini che magari non sono neanche colpevoli ma indagini per non so frodi piuttosto che problemi col fisco e tutti che si discostano quando la roba viene fuori non prima anche se probabilmente lo sanno ma quei numeri fanno gola e piacciono è lo stesso il wrestling nel momento in cui sale di livello come è successo quando era su Italia 1 e va a diventare popolare nella cultura della nazione e a tanti non va bene ed è facile tirar fuori la polemica e lo sponsor si spaventa e lo sponsor poi ci pensa dieci volte se mettere i soldi lì o su un altro programma quindi io vorrei che il wrestling guadagnasse spazi e che fossero sempre più visibili però sono conscio che c'è questa doppia lama no questo coltello con due parti affilate ovvero più guadagni medialità più rischi rischi davvero di finire in quel gorgo di certo se finisse sulla 7 su mediaset e quant'altro cambierebbe tanto cambierebbe tanto però torneremmo a vivere i tempi di metà anni 2000 con il Kodakons che fa le interrogazioni parlamentari per togliere il wrestling dalla tv tanto scusa Alucca ho tenuto fuori il tuo post un po' troppo poco con chiunque nel grande schermo magari minacciato o che non ha interessi da cavare dal wrestling che magari vorrebbe piazzarci programmi prodotti dalla scuderia a cui appartiene che gli fa guerra e funziona così io credo che al momento la situazione per quanto riguarda l'Italia sia di stallo con parecchie parecchie ondulazioni siamo fortunati che Sky hanno rinnovato l'Elite Wrestling mi fa piacere anche perché ho dei conoscenti che sono stati colleghi del sottoscritto e non vorrei vederli perdere il posto o veder minimizzato il loro impegno o addirittura sparire su Discovery vediamo adesso nei prossimi mesi cosa succede ho visto che delle piattaforme tipo da zona hanno preso diritti di impate e via dicendo speriamo che ci sia un mantenimento della situazione al momento siamo in una fase catenaccio non so se arriveremo ad una fase espansiva come quella che abbiamo vissuto in passato non te lo so dire quindi questa idea chiaramente sul what if di cui stiamo ragionando ad ora non è sostenuta da un mercato che si muove verso una direzione ampliativa dell'offerta la grande mannaia che ha distrutto il wrestling in Italia è la pirateria e lo ha talmente polverizzato che siamo passati dal terzo sbarra secondo paese tra le priorità della WWE a uno di quelli dove non succede più niente non ci sono i tour non ci sono iniziative specifiche non c'è praticamente nulla ma siamo stati noi come collettività di fan a volerlo con gli streaming i pezzotti il tu cosa guardi a fare si può rubare si può vedere gratis è questo ma io do visibilità parlandone sui forum intanto loro però vanno dove fanno i soldi l'ape va dove c'è il fiore non dove c'è la cicala che canta gli dice non so vieni e poi vediamo vanno dove c'è il fiore da impollinare io lo so l'opinione impopolare ma è così fine è così e l'ho vissuta da protagonista ma anche nel mio lavoro potevo avere villa con piscina maledetta pirateria e invece sono qua col tetto che mi cade in testa vabbè lì è stata anche un po' colpa di situazioni avverse imprevedibili come la morte emeria di Guerrero e soprattutto l'omicidio suicidio di Chris Benoit ma in generale anche quello ha contribuito parecchio all'uscita di scena di numerosi player interessati al prodotto wrestling questo è in dubbio e vabbè vuoi la vita ma ora diventerò miliardario con i libri rivista si spera si spera allora amici stasera siamo in tanti c'è tanta gente che lurca com'è possibile che il 60% di chi guarda la live non è iscritto al canale dai 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 su guardate qua che programmazione quella di questa settimana domani quattro chiacchiere WWE che è partita da poco visto che vi piace un sacco comunque tanto entusiasmo discussioni gli aziendalisti si stanno sgomitando per esserci domani a fare quattro chiacchiere e venerdì videogioco più live reaction ragazzi di Smackdown da qui a Wrestlemania le live reaction piovono fioccano ce ne sono un sacco e soprattutto è bello per chi può vedere gli eventi dal vivo insieme a degli amici come se fossimo in un salotto virtuale qual è lo stipendio medio di un telecronista della WWE sai che degli americani non lo so non ricordo neanche dei rumors al riguardo quindi non so dirti quanto possa prendere un Michael Cole o un Corey Graves è una domanda che mi coglie assolutamente sprovvisto di replica voi cosa ne dite avete mai letto qualcosa al riguardo io non ricordo di avere una letteratura specifica ora calcolando che magari i lottatori più più bassi in status possano arrivare a qualche centinaio di migliaio di dollari io credo che possano collocarsi più o meno in quella zona lì ora non so neanche se Michael Cole ha un ruolo come dirigente però quando ci ho parlato lui era stato presentato come capo del comparto del on air personals cioè del personale on air quindi può darsi che abbia anche un ruolo dirigenziale parallelo a quello di telecronista che lo porti a verificare la preparazione dei suoi colleghi a seguire i loro progressi e anche a decidere determinate cose ma anche qui c'è un alone di mistero che non sono in grado così su due piedi di sciogliere ma probabilmente non nemmeno cercando su internet può esserci qualcosa che riguarda questi questi comparti quindi non lo so non lo so non lo so bisognerebbe fare una bella ricerca non so se anche qua Pat McAfee rinunciato per la NCAA esatto però c'è anche da dire che Pat McAfee amava e ama telecronare lo sport universitario americano e il football in particolare e quindi diciamo che si è potuto permettere probabilmente vista anche la fama pregressa un accordo che ad altri non sarebbe stato concesso sto andando a ipotesi mentre Carlo conferma quello che ho detto almeno secondo le sue informazioni e quello che può dare in aggiunta alla live io credo che la strada sia questa che è più o meno quella che ho detto anch'io cioè ce lo presentarono proprio come addetto a quel ruolo tecnico e quel ruolo tecnico ha delle responsabilità e prevede uno stipendio non lo fai pro bono e in maniera sammaritanica eh mentre Pat McAfee ha un mega accordo per il suo podcast beh quindi ha anche degli interessi paralleli a fare il football e magari gli hanno anche gli avevano già anche discussi in sede contrattuale per quanto riguarda un telecronista italiano molto di meno io i primi anni facevo altri lavori in contemporanea il Frank ne parla nell'intervista che uscirà nel primo numero di Wrestling Review fra qualche settimana io ne facevo altri tre o quattro in contemporanea al telecronista quindi il mese non lo chiudevo con le telecronache facevo volantinaggio facevo rappresentanze i rappresentanti di televisori al Media World di una marca che era la Thompson ehm facevo contenuti per un sito web quindi scrivevo ma per un sito web e facevo migliaia altri lavoretti per sbarcare il Lunario quando siamo arrivati al massimo picco di celebrità guadagnavo bene e io questo non ve lo nascondo ma guadagnavo bene cioè bene se ho dei vincoli di riservatezza però vuol dire uno stipendio normale moltiplicato qualche volta e infatti ho detto cavolo qua mi compro villa con piscina se sto lavoro dura 5 o 6 anni ma facciamo anche 10 e invece no se dura 10 anni forse mi compro villa con piscina e invece no perché praticamente un anno dopo tra Eddie Guerrero e Chris Benoit c'è stato un crollo clamoroso e quindi e quindi sono rimasto a mani vuote accidenti ora non voglio milantare una pezzenteria che non possiedo qualche risparmio ce l'ho via lo sapete ma il progetto è sempre quello di investirli prima o poi per il cambio casa che è un passo che nella vita prevede comunque dei ripensamenti e degli investimenti molto importanti che devi valutare mille e più volte devi valutare mille e più volte vabbè c'è sempre la speranza che sia vi un attimino l'attività web e social che tengo ma sono in una nicchia e quindi è complicato anche quello ma qua abbiamo creato una bella comunità e in realtà il tempo che condivido con voi anche se non è profittevole dal punto di vista economico lo è dal punto di vista umano quindi mi piace molto venire qui in diretta quando posso e nei tempi che riesco a ritagliarmi per fare quattro chiacchiere insieme a voi è sempre molto piacevole eh se non dovessi più fare il commentatore Davide ci ho pensato e probabilmente se dovesse rimanere a piedi credo che andrei verso l'autodistruzione legata al wrestling la casa del mio papà Davide è vecchia e venirebbe ristrutturarla veramente mille problemi idraulici elettrici è veramente vecchissima ogni giorno ce n'è una credimi mi sintasano gli scarichi in cucina ogni due settimane non vanno c'è veramente da rifarla tutta anche il ricambio d'aria che per me è importante è scadente comunque sono cose che io sento e che sulla mia qualità di vita la peggiorano tantissimo io ho vissuto a Milano in affitto per parecchio tempo paradossalmente respiravo meglio a Milano rispetto che a casa mia ma ad ogni modo dicevi dicevo se non dovessi più fare il telecronista e quindi non cambierei casa mi terrei via quel gruzzolo e direi a me piace il wrestling la mia vocazione è scriverne io continuo a scriverne anche se la rivista me l'acquistano solo 60 persone può scrivere libri ovviamente e anche se quei diritti d'autore fai la fame però ho quel cuscino che aggiunto le mie prospettive di vita mi permette di fare qualcosa che mi rende contento io ora non vi devo vendere la rivista a tutti i costi so che leggere non è un passatempo che hanno tutti quindi non pensiate che sto che stia facendo propaganda ho già avuto degli spazi per dirvi che c'è però la settimana scorsa nel weekend ho fatto una tirata di sette ore a scrivere ed ero contento cioè non c'è niente da fare ero contento sì non è come uscire con la ragazza che magari ci sta e sei felice bla bla ok ma c'ho 40 quanti anni ho 40 e qualcosa non ho perso il conto cioè ero contento ero felice cioè poi ho letto le cose chiaramente bisogna farci un'altra revisione la farò ci sarà qualche errore che mi sfugge qualche ripetizione qualche parola ripetuta ma stavo bene e quando arrivo a una certa età se non hai l'acqua alla gola dei soldi e se non compro casa non ce l'ho e se non compro casa vuol dire che non faccio più il telecronista beh a quel punto dico boh voglio fare quello che mi fa star bene cioè ho questo lusso tecnicamente di dire posso dire posso fare quello che che cacchio finisce la giornata sono contento sono contento ecco vorrei fare questo anche perché non sono facilmente ricollocabile sono diventato talmente specifico che è impossibile pensare di trovare lavoro nell'ambiente televisivo sottraendolo a chi ha investito tutta la sua vita magari in quello sport o in quella disciplina come ho fatto io col wrestling a me piace il basket ma non avrò mai la competenza di un buffa di un tranquillo di un mamoli o di chiunque commenta il basket a grandi livelli che vede un dirigente dei charo tornez in tribuna e sa chi è e io no che conoscono vita morte miracoli dei giocatori delle franchigie delle storie e io no io conosco altre cose ho quasi 100 libri ho 13.000 riviste quello che è io conosco il wrestling che dimentico ma ho i supporti cartacei proprio per ricordarmene quindi farei questo non ho un management le agenzie che amministrano i creator mi dicono che sono cresciuti con me ma non mi prendono o non mi prenderebbero nel loro organico perché non sono bravo a vendere e perché sono troppo settoriale me l'hanno detto diverse agenzie mi hanno detto tu dovresti fare quello che va in giro a mangiare il panino cioè della community wrestling del wrestling dovresti dire fate l'abbonamento ma poi io faccio altro cioè sei già il leader del wrestling almeno televisivo sui social ti superano altri perché sono più giovani tu devi andare in giro a fare il cazzone facendo altre cose nella nicchia wrestling non vendi perché non sei a disagio a vendere ed è vero cioè vi vendo la mia libro rivista ma perché la mia ci credo ma come avete visto se mi contattano altri sponsor io sono a disagio non vi ho fatto mi avevano contattato lo dico spesso anche i videogiochi giochini quelli del cellulare della WWE con gli acquisti in app io non ci gioco ho detto no anche se un prodotto WWE non me la sento perché devo fingere che mi stia divertendo non ce la faccio non ce la faccio è così cioè prendere o lasciare sono fatto in questo modo anche quando ci sono state scaramucce con gli altri creator italiani qualcuno mi dice devi gettare acqua sul fuoco pensare all'immagine che dai ma se me è una cosa da fastidio o la trovo sbagliata io non riesco a dire boh mi faccio un conto in tasca la dico ed è così fine cioè è stessa cosa quindi se dovesse finire se dovesse finire tutto credo che farò questo credo che che farò questo eh eh purtroppo usare i bonus non era possibile perché dovevano lavorare da casa qua ci vorrebbero sei otto mesi di ristrutturazione io dove andavo a fare le telecronache e dovevo anche spostare tutto quello che c'è dentro quindi è diventato un po' problematico no? la casa allora il lavoro delle telecronache ha tanto dietro che non è soltanto le traduzioni e le telecronache ma è anche l'aggiornamento professionale la correzione delle traduzioni la verifica che fa Luca dei time code quindi è un lavoro costante in realtà non sono otto sbarra dieci ore al giorno ma sono distribuite in maniera tale che poi non riesci a fare molto altro durante l'arco della giornata io riesco a inserirci alla sera le dirette e qualche video su YouTube ma non riesco a fare il montaggio cose simili anche per motivi di utilizzo delle immagini in movimento della WWE intanto non so la pronuncia lo dico come si legge in italiano 5 minuti fa grazie mille primo mese col Prime grazie davvero thank you Bardo Faraone per te grazie mille per la fiducia data a questo canale grazie davvero quindi oh male che vada diventerò un po' più martellante chiedendovi di seguirmi a livello editoriale posto che finché non sfondi in stile Harry Potter ne devi mangiare di acqua colorata che assomiglia a minestrina è difficile trovare un erede di Dan Amite Kid perché Chris Benoit amava Dan Amite Kid era il suo lottatore preferito è quello che lo ha convinto a diventare wrestler e ha modellato tutta la sua carriera nelle scelte e nello stile tecnico su Dan Amite Kid tanto da diventare ossessionato da questa cosa cioè lui voleva duplicare copiare carta carbone il suo idolo ecco non ho visto altri con questa chiamiamola anche follia per certi versi cioè non ho visto altri con questa mission cioè divento la copia di un altro atleta perché è quello che mi ha avvicinato la disciplina dunque no non c'è un altro che usa lo stile di Dan Amite Kid e forse aggiungerei per fortuna perché era uno stile folle se lo pensiamo con la ragione lui era piccolo volava per tutti lui doveva venire pestato da quelli grossi quindi doveva prendersi un sacco di bump di cadute era quello in pericolo tra i British Bulldogs perché era quello più piccolo e con i pesi leggeri visto che andavano a mille all'ora si prendeva delle botte tremende ma quando le mosse non erano proibite come oggi quindi magari in un match si prendeva tre pal driver ma secchi testi cioè secchi tosti giù di cranio dunque no non vedo un altro che si è messo su quella pista no non c'è un altro che scende in slalom gigante per diventare dynamite kid il flying headbat che potrebbe aver causato gravi problemi al cervello di Benoit manovra sconsigliata da tutti i veterani che l'hanno utilizzata e abusata a partire da Harley Race dynamite kid è rimasto in sedia a rotelle per gli steroidi ma anche per proprio quelle tecniche lì quelle cadute dunque non lo so cioè forse è quasi un bene Lippino Key che non ci sia al momento un imitatore che non ci sia qualcuno che voglia in maniera evidente essere un ulteriore successore di quello stile che oggi in WWE non va tanto per la maggiore e i cui barlumi si possono vedere a NXT ma sono barlumi più vicini a passi di danza che a contese fisiche io ho sempre in mente dei match incommentabili del legato del fantasma parlo di Joaquin Wilde e di Cruz del Toro che sono bravissimi ragazzi sono fenomenali ora santo sesco bar sembra essere amichevole con re misterio magari il legato a smackdown si scioglie loro dovranno nuotare affannosamente senza scialuppa di salvataggio ma quei due lotatori lì sono stratosferici ma alcuni loro match a NXT erano incommentabili perché erano passi di danza coreografati spudoratamente coreografati fatti a 100 all'ora dove ovviamente i danni delle mosse non venivano calcolati anche Dynamite Kid disputava dei match con Tyer Mask dove questo accadeva ma a un certo punto crollavano stremati e c'erano delle pause tra un'azione e l'altra con anche delle mosse statiche delle rest holds per mostrare l'abilità a terra dell'uno o dell'altro nell'uscire dalle trappole preparate magari per sottomettere o schienare il nemico non ti dava l'idea ma forse ero io bambino che ci fosse una coreografia tanto erano fluidi e tanto c'era l'accelerata quanto il deflusso e il rallentamento ecco torniamo a quanto detto prima lo stile moderno che a tanti piace oggi non avendo spesso questi rallentamenti risulta spudoratamente studiato a tavolino mentre quei match lì io li vedevo e probabilmente anche oggi mi farebbero questo effetto probabilmente non gradirei quello stile lì oggi ma ai tempi sì però mi davano l'idea che fosse veramente una battaglia cioè che se le stessero dando per vincere e non per permettere all'altro di fare l'acrobazia tale che il pubblico possa cantare Fight Forever o Tisis Oson cioè vedevo quella voglia combattiva che ad esempio in quei match lì del legato del fantasma non traspariva pur riconoscendo che sono dei mostri nel ring sono pazzeschi pazzeschi oh mamma mia Gianluca tu mi vuoi mettere in difficoltà ah tra i youtuber grossi quelli che fanno numeri importanti con me adesso parlo di numeri cioè dei due tre più grossi in Italia quindi non vorrei escludere dalla lista altri che fanno numeri come i miei magari anche leggermente migliori però di quelli con cui sono entrato in diretta in diretto contatto beh Maxis Oson mi ha sempre trattato bene in generale poi magari ogni tanto ci sta qualche frecciatina da parte sua o magari anche da parte mia può essere scappata indubbiamente però in generale mi sembra che sia sempre stato tutto sommato corretto nei miei confronti io in passato ero molto chiuso alle collaborazioni in generale avevo anche dei vincoli dettati dal mio lavoro a Sky decisamente più stretti in più mi sembrava una mancanza di rispetto molto grave non provare prima a collaborare con i miei colleghi o ad anteporre una collaborazione con altri influencer youtuber eccetera rispetto al collaborare con loro questa posizione si è molto ammorbidita una volta che sono arrivato qua su su Twitch imparando io sono uno che ama stare per i fatti suoi so che vi sembrerà strano io sono un lupo solitario sono il fenix della situazione anche se a me ora ho la panza e non più i muscoloni a icchi della fenice però dicevo questa roba qua si è alleggerita qui su Twitch con il primo gruppo storico di spettatori magari non tutto primo gruppo storico ma buona parte del primo gruppo storico che ha deciso di voler darmi una mano con il canale all'inizio c'era l'avvocato Sien Paolo ve lo ricordate poi c'è stato un disguido durante una live che forse era la punta dell'iceberg di un malessere che io non sono riuscito a leggere da parte sua e quindi purtroppo l'avvocato Sien Paolo ha deciso di non collaborare più al canale e non sono stato in grado di riprendere e me ne dolgo i rapporti interpersonali con lui perché credevo che il ponte si ripotesse gettare o che se ci fosse stato qualcosa di scorretto o di percepito come tale parlandone si sarebbero rimesse le fondamenta però quando è andato via l'avvocato sono subentrati loro io il canale come vedete lo potrei tenere aperto solo un paio di serate e il parlare con diciamo dei fan ora io non voglio creare una sminuzione se no adesso mi vanno via anche gli aziendalisti no? ma intendo dire parlare con dei fan che non lavorano col wrestling a livello professionale che era un po' il mio cruccio sia personale e sia da regole contrattuali e quello è sparito oggi faccio le live con il dottor Greter Power che mi parla della divisione femminile mi dà le sue idee mi diverto perché spesso ha delle illuminazioni non da poco so che su Sasha Banks magari un po' riparte perché è la sua lottatrice preferita ma è bello faccio la live con Parrucco spesso delle idee simili alle sue non sempre e apprezzo anche il fatto che crei la Lord del canale con Cario Mazzari ha imparato il direttore si è messo da zero abbiamo fatto delle dirette insieme ha imparato a usare i vari sistemi per andare in onda facciamo le live con Seven Fiend che mi parla di Bray Wyatt mi spiega delle cose che io non ho capito e c'ha ragione lui accidenti questa è la cosa quindi diciamo che quel piedistallo del lavoro col professionista faccio cose con chi è con me in un settore che ripeto prima era anche dovuto a degli accordi con un'altra entità quello è andato un po' affievolendosi e poi ce ne sono altri di aziendalisti con cui ho interagito poco beh con Simon Deref ho interagito diverse volte è anche bello sentirlo parlare in romanesco fare i riferimenti ai film alla sua passione cinematografica con Bracchias ho fatto poche cose ogni tanto passa Emanuele Chiarelli cioè capite ho scoperto su questo social la bellezza comunque di avere un gruppo di lavoro no ora sulla collaborazione con altri influencer potrei anche ragionarla ma devo capire a queste persone può interessare c'è comunque un discorso connesso a un lavoro io vorrei che questi social diventassero un lavoro credo che per loro lo siano fanno numeri che sono dieci volte miei io se vedo quello che prendo a fine mese da youtube lo moltiplico per dieci poi non so se è così la matematica ci vivrei adesso no mi compro le trading card ma compro un box e ho finito quindi dico boh non lo so hanno voglia di portare la loro utenza sul mio canale perché sono loro in una posizione di vantaggio e il loro pubblico ha interesse alla mia proposta che comunque è diversa e non non è migliore attenzione perché potrebbe sembrare che io voglia essere aggressivo con queste parole non è migliore è diversa sono poco intrattenente sono anche abbastanza palloso a volte sono prolisso tendo a voler spiegare anche nei minimi dettagli se no arriva quello che mi dà sul puntino sulla i e mi dice ah però non hai detto cacchio e allora te lo dico a prescindere te lo dico prima quindi non lo so non lo so se c'è la possibilità di fare qualcosa non ho citato il Tudo che è in chat in effetti Tudo ti è andata male sborni e basta grazie thank you grazie per l'abbonamento tra l'altro non me n'era accorto il tuo è il decimo della giornata 10 su 10 ragazzi aziendalisti anche io ogni tanto faccio 10 su 10 quindi non lo so però da questo punto di vista oggi sono molto più malleabile non credo non credo che ci siano possibilità all'orizzonte però se ci fossero le ragioni erei lesnar 91 grazie per i 100 bits di regalo ma non vorrei neanche sembrare quello che adesso che sei sotto coi numeri allunghi la mano perché non sono fatto così ma potrebbe essere anche percepito in questo modo io fare le live qua sto bene mi piace mi piace di più scrivere questo ve lo devo ammettere però mi riempie la giornata è bello anche scrivere con gli aziendalisti oh facciamo questo usce il videogioco dai cambiamo un po' la programmazione facciamo la live cerchiamo di comprare quella più cara così la facciamo il primo giorno facciamo la mezza maratona oh cacchio che peccato la Tyler List l'altra sera è andata un po' peggio però quattro chiacchiere cioè è bello e soprattutto ho notato che guardare fare le live reaction mi permette con il confronto con gli altri lo so che poi direte ma come poi spesso fai le opinioni a caldo molto critiche ma mi permette di vivere il wrestling con maggiore leggerezza in generale poi se uno show non mi piace come Elimination Chamber comunque vado e lo dico Lesnar 91 altri 100 beats grazie mille thank you grazie davvero grazie se vi state sintonizzando qua perché richiamati dalle belle donne con le cinture nel ring sappiate che questo è un canale dedicato al pro wrestling e alla WB in particolare che io racconto in tv da 23 anni in qualità di telecronista quindi se vi va fermatevi fate delle domande fate quello che volete scrivete parliamo amabilmente oggi domande e risposte senza paura di sembrare newbie io sono boomer voi siete newbie facciamo un nuovo telefilm boomer newbie e boomer vabbè stasera volete proprio mi volete male volete che parli anche di Maurizio Merluzzo io ho avuto dei problemi c'è stata una polemica web amici non createmi delle spaccature o delle erogne con altre personalità io non posso verificare cosa uno pensa qual è il suo entusiasmo qual è la la motivazione il motore che induce una persona a fare qualcosa a me non è piaciuto nei suoi video l'ho detto che invitasse la sua platea a guardare la WB con un sistema che non è corretto attraverso una linea VPN siglando un contratto nel quale stando all'avvocato Sien Paolo che ci seguiva ai tempi commetti un illecito amministrativo per vedere WB dall'Italia usando Peacock ma visto che quella VPN era il suo sponsor ha detto così e quindi glielo ho fatto notare ma mi hanno cancellato dal suo canale e a me non è andato giù anche perché ha usato diverse immagini di atleti di WWE per fare da traino in un altro suo video nel quale veniva evidenziata la sponsorship degli integratori alimentari di cui lui è testimonial tra l'altro usando ad esempio Braun Strowman che era testimonial di un altro gruppo per dire di integratori alimentari ma probabilmente il suo montatore non lo sapeva c'era Braun Strowman c'era Edge c'era addirittura Stephanie McMahon tutto qua poteva usare gli atleti della federazione con cui collabora però io faccio dei numeri talmente modesti rispetto a Maurizio Merluzzo che alla fine neanche mi ha cagato abbiamo bannato dal nostro canale il shadow gustato addirittura il telecronista italiano più longevo insieme a Luca Franchini dalla WWE ma chi se ne frega mi interessa altro io credo che le mie rimostranze fossero legittime bastava dire cacchio ho fatto un errore correggo nel prossimo video faccio una rettifica quante volte ho sbagliato a darvi una notizia nei miei video un dettaglio ho capito male una cosa cioè ho fatto una rettifica fai un video dove dici oh non sono mica perfetto può capitare che uno prenda un granchio o sia un po' distratto e e e vabbè abbiate pazienza la mia onestà intellettuale è quella di dirvi se mi accorgo dell'errore e lo ravviso vi chiedo scusa e vi do l'informazione coerente metto una pezza eccoli non mi è piaciuto quindi non sto seguendo la sua avventura nel wrestling italiano che magari è anche stimabile e magari fa anche dei match pazzeschi è possibile cioè credo che si stia impegnando non mi sembra uno che prende sotto gamba gli impegni a cui egli stesso aderisce però questa cosa mi ha molto indisposto e per quanto sembri banale stupido tudo sì se io fossi la federazione che ha merluzzo in casa sulla base di questo la prima cosa che farei io ma perché ho una mentalità da sceneggiatore sarebbe stata proprio quella di chiamarmi per dire trasformiamola in una rivalità vera cioè una rivalità da ring io è la prima cosa che avrei fatto cioè se io oggi fossi un booker ma ci ho pensato visto che è successa una cosa vera e questo non vuol dire che ho il poster di merluzzo con le freccette cioè fine mi ha bannato pazienza e la vita va avanti insomma ho altri problemi nella vita io lo lo ingaggerei ma subito per fare la rivalità con me chiaramente solo che al momento non sono più un un fulmine di guerra come quando praticavo combattimento militare eccetera quindi non so che match potrei disputare ma potrei avere dei rappresentanti potrebbe arrivare Beltasar a combattere per me potrebbe arrivare Red Scorpion potrebbe arrivare Fabio Ferrari potrebbe arrivare Mambo Italiano dall'America cioè io non è necessario che lotti potrei avere dei rappresentanti volete mettere che promo farei sono sicuramente il miglior promomeno italiano del wrestling che non fa wrestling e lo sanno bene chiunque ha lavorato con me lo sa bene io non ho bisogno di scrivere il promo io l'ho improvviso sono il bardo e volete che non sappia parlare sarebbe divertente sarebbe divertente comunque sì io quella rivalità lì avrei tentato di trasformarla in qualcosa poi chissà magari conoscendo le persone e non vedendole solo a distanza di di bite o magari che ne so sarebbe anche venuto a dirmi scusa un mio collaboratore ha fatto la frittata e non sapevo come come uscirne o può anche darsi cioè nel senso io non sono così lo ero magari quando l'età era diversa per oggi sono sempre molto pacato e meno avventato nei giudizi perché vorrei che quella avventatezza non venisse utilizzata su di me però se mi fate domande su quell'ambiente lì e soprattutto sulla sua federazione francamente ci sono rimasto male e quindi non ho seguito non sto seguendo credo che stiano facendo bene nel senso hanno un influencer grosso che fa grossi numeri e che ha un pubblico che probabilmente ha piacere a vederlo a seguirlo che fa delle cose si vende ad un pubblico che acquista quello che lui propone quindi è un personaggio anche ambito a differenza mia io non so vendere ve l'ho detto quindi credo che stiano facendo bene a prescindere cioè quando hai un personaggio così che ha un following talmente vasto cacchio credo che un po' tutti no farebbero a gara per per accapparrarselo poi sulle sue motivazioni reali su quello che è in mente se ha preso il wrestling seriamente o come un treno per diventare attore fare lo stuntman o per provare a proporsi come telecronista cosa che so che ha fatto beh lì ognuno trae una conclusione che è sicuramente imprecisa e imperfetta è perché non siamo lui e quindi è un frammento distopico che non è la verità che non è la verità avete visto nulla mi spaventa stasera perché siete in tanti se no metto la polvere sotto il tappeto e faccio finta di niente allora io mia azienda di wrestling l'ho avuta in realtà avevo un servizio che importava materiale di wrestling e lo rivendeva l'ho tenuta sino a poco dopo che passassi a sky o dopo qualche anno che ero a sky perché non riuscivo più a starci addietro il magazzino era casa mia poi era diventata un'azienda esterna a cui mi appoggiavo facevamo le giornate in fumetteria facevamo i tornei con il videogioco nei centri commerciali però era una cosa diciamo abbastanza casereccia cioè non era molto strutturata di bello c'era il Fanta Wrestling che avevo messo sotto copyright quindi il marchio Fanta Wrestling per tanti anni è stato mio ma non lo sapeva nessuno quindi tanti siti lo hanno usato e ho fatto finta di niente non mi interessava proteggerlo e c'era un concorso registrato al ministero delle attività produttive con il Fanta Wrestling legato a questo sito che vendeva il merchandising ufficiale ufficiale o su licenza ma sempre ufficiale principalmente della WP ma c'era anche qualcosa della UFC poi ho ceduto l'attività e ho venduto tutto il magazzino a Wrestling Store che oggi ancora è in attività che ai tempi era il mio principale concorrente come promoter di wrestling ho fatto qualcosa negli ultimi anni insieme a un ragazzo che era fuoriuscito dall'Italian Championship Wrestling e avevo tentato anche di unificare diversi poli e strutture di allenamento ma i lottatori litigavano tra di loro c'erano delle vecchie ripicche tra questi quegli altri quelli di una federazione verso l'altra se lotta questo di quella federazione io non vengo se il lottatore della mia federazione lotta contro quello di un'altra decido io chi vince non ci sta che il mio perda se ti prendi il match tra i miei due lottatori decido io chi vince c'erano talmente tanti vincoli che alla fine ho detto vabbè abbiamo fatto due tre show risultati economici non sono stati positivi le perdite sono sempre state leggere ma comunque erano perdite e sai una cosa non c'ho più voglia io di correre dietro a questa gente che non ascolta i consigli anche quando sono economicamente illuminati e che mi dà tutti questi casini a progettare uno show qualcuno mi ha dato corda e sponda ad esempio il Bologna Wrestling Team è sempre stato molto collaborativo devo dire la verità altri invece mi hanno fatto fare viaggi impiegare giornate e soldi dicendomi magari dal vivo una cosa e rientrati a casa il giorno dopo dicendomene una completamente diversa al telefono e dicendo ma ci ho ripensato con quelli non lavoro quindi non lo so ma al momento non è proprio una mia priorità fare qualcosa di aziendale col wrestling perché c'è poco da stare allegri o da portarci a casa da vivere faccio le mie cose qui con voi contento sui social nella mia piccolezza vorrei realmente vivere scrivendo so che è difficile perché internet ha fornito tanti contenuti gratis e continua a fornirle gratis che non c'è più la comprensione che possa esistere un contenuto differente migliore a pagamento perché sono abituato al gratis e poi sono conscio che a pochi piace leggere o comunque che lobby della lettura che io ho coltivo sin da bambino e è diventata una libreria infinita credo una tra le più grandi in Europa dedicata al wrestling non è condivisissimo soprattutto tra chi segue la disciplina non sto dicendo che siete dei Flintstone o degli illetterati ma magari tra un videogame e un libro preferite il videogame ecco quindi la situazione è questa qua cioè preferirei dedicarmi a questo che mi fa stare bene piuttosto che a correre dietro con la bavaglia cioè col bavaglio a mille persone che si lamentano anche se da quanto capisco quell'epoca è un po' tramontata ci sono molte più collaborazioni c'è molta più libertà c'è molta più voglia di darsi una mano quindi questo lo apprezzo cioè eh guarda io c'è stato un periodo in cui rapinavo le fumetterie è arrivato lo stipendio ok non c'è più scattomato adesso mi contengo le spese sono abbastanza superfue e limitate anche se le trading card ecco le trading card hanno un po' soppiantato lentamente i manga le trading card della WWE ovviamente oppure le carte di Magic va bene oh mi avete fatto parlare un sacco stasera siamo andati anche fuori dai temi abituali grazie grazie Grazie.